Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Mal tempo in arrivo con piogge temporali e neve in pianura. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 8 dicembre. Neve al mattino fino a quote pianeggianti al nord-ovest, piogge temporali sparsi su Liguria, Sardegna e regioni centrali tirreniche, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni abbondanti al nord con neve fino a quote di pianura o al più mista a pioggia tra Lombardia orientale e Veneto. Piogge temporali lungo i settori tirrenici, più asciutto sul versante adriatico. In serata è notata mal tempo che insiste al nord-est e al centro-sud, neve fino a 200-400 metri al nord e oltre i 1000-1300 metri lungo l'Appennino. Temperature minime in aumento al centro-nord e in lieve calo al sud, massime in calo al nord e in rialzo altrove. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.